Il mio comune Un po' di soldi Anche per aiutare il comune a tenere bene il paese E anche a dare un po' di esempio agli altri Magari Far vedere che noi Di brusaporto teniamo bene il nostro paese E non cerchiamo di sforgarlo almeno Per provare a vedere come Tenere in ordine il paese E comunque Per aiutare e dare una mano Per vedere che anche noi Sono presente anch'io nel paese Noi come gruppo Alpini Abbiamo accettato Volentieri l'invito dell'amministrazione Comunale a Portare avanti questo progetto In cui sono Chiamati a partecipare i giovani I giovani del nostro paese E perché noi Come Alpini crediamo Nel futuro dei giovani E i giovani del nostro paese stanno dimostrando Attaccamento al paese E senso di Responsabilità Allora Cooperativa Crisalide da sempre È impegnata nei progetti che riguardano Adolescenti e giovani Sia nell'aggregazione che come in questo caso Attività sul territorio Quindi anche quest'anno abbiamo accettato Perché La missione di Crisalide è vedere Giovani e adolescenti impegnati Nel proprio paese Grazie 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 Grazie